Sì, grazie Presidente per la parola. Se oggi è una delibera un po' particolare, effettivamente, forse per chi non conosce bene la materia, appunto, chi non si occupa di ambiente, può sembrare un po' strano presentare un dispositivo legato a sensibilizzare o comunque cercare di innescare dei progetti che riguardano l'apicoltura urbana. Come forse avete visto qualche giorno fa, sia sulla TV nazionale che anche su un'altra emittente, su due programmi importanti che vanno in onda in prima serata, si è parlato proprio dell'apicoltura urbana e dell'emergenza e dell'urgenza che c'è nel salvaguardare questi insetti impollinatori. L'Europa su questo tema si è mosso, si è mosso con dei progetti importanti, con uno stanziamento di fondi importanti. Come possiamo notare, per esempio, nella città di Oslo, sono state costruite, grazie all'attività del Comune e chiaramente del Sindaco che governa la città, sono state costruite delle arnie proprio per tentare e cercare di salvaguardare questi insetti. Si è creato perciò, all'interno di questa città importante, si è creata una convivenza stabile tra uomo ed insetto, un equilibrio che va avanti da infiniti anni, praticamente, da quando è nato il genere umano e questo insetto, ricordiamo che mantiene un equilibrio sostanziale e oramai purtroppo precario tra l'ecosistema e la biodiversità, perciò tra uomo e natura. Ricordiamo altresì che l'ape, in qualità di impollinatore, rappresenta il 70% dell'alimentazione agroalimentare, delle nostre verdure, dei nostri alimenti, in tutta Europa e anche nel mondo. Questo ci fa capire l'importanza di questo insetto e la sua eventuale estinzione. Ricordiamo anche che il tema dell'apicoltura rientra in un tema molto sentito oggi, che è il tema della food policy, un tema legato alla produzione agroalimentare, alla produzione chiaramente degli alimenti e anche alla lotta dei cambiamenti climatici. Noi, come Commissione Ambiente, come attività politica, il tema della food policy, il tema della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, della biodiversità, della salvaguardia, chiaramente della mitigazione dei cambiamenti climatici, è un tema che stiamo cavalcando, un tema moderno e un tema attuale. Perciò è un elemento questo che spinge la città di Roma a tutelare questi insetti, costruendo chiaramente delle arne che ricordiamo sono la casa di queste api che li aiutano appunto a riprodursi e di fatto li mette in sicurezza. Cerchiamo di sensibilizzare la cittadinanza e l'amministrazione nel costruire le arne. Ricordiamo che è un'attività che anche nei nostri municipi si sta portando avanti, per esempio nel municipio Quinto si è messo in campo un progetto importante sull'apicoltura urbana e l'amministrazione centrale, l'amministrazione capitolina vuole fare altrettanto. Perciò, come appunto affermavo, Roma Capitale, oltre alla costruzione di arnie, cercherà anche di sensibilizzare i più piccoli, perciò appunto i ragazzi, la gioventù, nella cultura della salvaguardia delle api, all'interno delle scuole, all'interno delle comunità dei ragazzi, all'interno delle associazioni, dei centri culturali che si occupano di questa materia e delle materie ambientali. Ricordiamo che purtroppo le api muoiono a parte per il cambiamento climatico, perciò per il surriscaldamento del nostro planeta, anche per l'inquinamento atmosferico. Per esempio, per la grande quantità, l'ingente quantità di pesticidi che sono errorati sui nostri terreni agricoli, o comunque anche su un'elevata quantità di PM10 di particolato che c'è nella nostra atmosfera. Ecco, questo sta danneggiando il nostro ecosistema e in esso anche le api. E appunto noi, come Commissione Ambiente, come amministrazione, come Comuni di Roma, come Roma Capitale, abbiamo il dovere. E potremo essere anche il capofila su un tema così importante e così delicato, dove le altre città, gli altri comuni italiani potranno sicuramente seguirci. In effetti molte associazioni hanno scritto alla nostra Commissione per essere uditi e per essere appunto coinvolti in questi progetti e in questo percorso. Ecco, questo per dirvi che comunque questo atto, questo dispositivo, rientra in un piano di azione per la mitigazione ai cambiamenti climatici, alla lotta degli agenti inquinanti, alla salvaguardia della biodiversità e anche alla salvaguardia della produzione agroalimentare. Ecco, questi sono temi centrali, sono temi importanti, dove la politica, come sta facendo giustamente l'Europa, deve dare un importante contributo. Grazie Presidente, attendiamo anche la presentazione di emendamenti, perché sono stato informato che i miei colleghi hanno presentato degli emendamenti appunto per migliorare questo atto. Grazie.